Il periodo di raccolta delle olive va dalla fine di ottobre alla fine di novembre. Ad un'altitudine media di 300 metri sopra il livello del mare vengono coltivate alcune varietà di olivo come frantoio, moraiolo, leccino. Le olive vengono raccolte a mano al giusto grado di maturazione e frante entro il giorno stesso della raccolta. Colore verde intenso che col tempo sfuma in giallo oro, di gusto armonico, pieno e fruttato. L'olio extravergine di oliva Le Torri è un olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.